Ciao, sono Francesca Boraschi, sono team manager del Rugby Tots di Parma e sono anche una mamma. E soprattutto perché sono una mamma mi sono avvicinata a Rugby Tots perché ho pensato quando il mio bimbo era piccolo e mi sarebbe piaciuto molto poter fare una cosa del genere con il mio bimbo. Infatti Rugby Tots è un programma di motricità con la palla ovale e da cui deriva il rugby. Anche se è propedeutico comunque per tutti i tipi di sport, nel senso che comunque i bambini, soprattutto quelli piccolini, imparano a muoversi bene con il proprio corpo, a correre in modo corretto, con una palla in mano e in più hanno la possibilità di fare gruppo, fare gruppo con degli altri bambini. E per ultimo, ma non meno importante, è un bellissimo momento tra bambino e genitore, soprattutto in un mondo molto caotico che abbiamo adesso. È un momento tutto per il bambino e il genitore, con la mamma, con il papà, a volte c'è anche lo zio oppure c'è il nonno, però è un momento di condivisione dello sport e credo che sia una cosa molto bella. Grazie. 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 Grazie.